Con l'incontro di oggi si conclude il progetto PON ComunWeb. Dal suo punto di vista, cosa lascia sul campo questo progetto? È un progetto che ha messo al centro il cittadino. Il cittadino è il punto di partenza e ComunWeb è stato lanciato dal Consorzio dei Comuni dieci anni fa, nello spirito che spesso contraddistingue le azioni del Consorzio, cioè quello di dare servizi ai comuni piccoli, ai comuni medi, alle città, alla stessa qualità. Questa è una grande risorsa che è stata portata fuori dal Trentino ed è stata accolta dall'Agenzia della Coesione Territoriale e dal Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie. Attraverso un bando oggi hanno aderito più di 12 comuni della regione Campania, della regione Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Toscana e della Calabria. È una buona pratica che il Trentino è riuscito a esportare nel resto d'Italia e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Si parla di riuso, di economia discale, quindi questi sono contenuti e si dà la possibilità a tutti i cittadini di avere la stessa qualità dei servizi.